Ancora poche ore poi la grande ruota panoramica di piazzale Boscovich, se preferite, Rimini A e attrazione principale dell'estate 2012 in riviera comincerà a girare. Uno spettacolo di luce e di colori attesissimo, dal 16 giugno al 27 agosto sarà così possibile ammirare il panorama dell'intera costa romagnola da Cesenatico a Gabicemare. Una ruota che può dare tanto alla riviera nel complesso. Sono anni che lavoriamo a questo progetto, avevamo iniziato l'attrativo Corricione e a Rimini abbiamo avuto l'opportunità ideale, la location giusta credo. Cosa vi aspettate da questa ruota? Sicuramente un plus per la città, una struttura internazionale, ci aspettiamo grossi efflussi in modo particolare di sera ma siamo molto fiduciosi nelle promozioni che abbiamo fatto. Per agevolare chi è al mare può fare una passeggiata, una visione panoramica di tutta la riviera perché qui si ha l'opportunità di vedere la Cesenatico a Gabicemare. Un giro sulla ruota panoramica durerà 5 minuti e costerà 8 euro agli adulti e 6 bambini con turi ininterrotti dalle 10 del mattino fino alle 2 di notte. È una ruota con altezza 55 metri, la più alta in Europa con gondole aperte. È arrivata qua a Rimini partendo da Erlangen, a circa 1000 km da qua. Le operazioni di smontaggio perché era montata là sono iniziate il 5 di giugno, oggi è il 15 e come potete vedere siamo già operativi. Parliamo di numeri, quante persone può portare questa giostra panoramica all'altezza, qualche dato tecnico? Ha una base a terra di 25 metri per 20, 380 tonnellate di peso, sono 42 gondole per un totale di 252 passeggeri a giro. Sappiamo che abbiamo una potenzialità oraria di circa 2000 persone, questo chiaramente dipenderà dal flusso di gente, dalle manifestazioni che ci saranno in loco e chiaramente appunto dalla risposta dei turisti e soprattutto dei residenti perché puntiamo molto anche sulla zona nostra, quindi su Rimini.